Che cos'è un test dell'ormone della saliva? Un test dell'ormone della saliva è un test di laboratorio usato per controllare i livelli ormonali nella saliva. Tali test possono essere offerti in ospedali e cliniche e sono disponibili anche test a casa. Si consiglia cautela nel test dell'ormone della saliva poiché non tutti i test sono uguali e questi test non sono progettati per il trattamento domiciliare e la diagnosi. Le persone che hanno anomalie ormonali dovrebbero essere trattate da un endocrinologo, un medico specializzato nel trattamento di disturbi relativi al sistema endocrino. La saliva, come altri fluidi corporei, contiene tracce di ormoni. Gli esami del sangue sono generalmente considerati il gold standard dei test ormonali perché forniscono informazioni estremamente precise sui livelli ormonali in un dato momento. L'urina e la saliva possono essere utilizzate per i test, ma non sono sempre accurate. I risultati di un test dell'ormone della saliva non sono generalmente utilizzati per fare cose come la regolazione dei regimi terapeutici, ma possono essere utilizzati per valutazioni rapide e monitoraggio continuo dei pazienti. Una situazione in cui un test dell'ormone della saliva è effettivamente preferito per un esame del sangue e nella diagnosi di pazienti con sindrome di Cushing, una condizione endocrina che causa una sovrapproduzione di cortisolo. Un test del cortisolo salivare può essere eseguito utilizzando un campione di saliva la sera, quando i livelli di cortisolo dovrebbero essere bassi. Se il test rivela livelli elevati, è un segno che il paziente sta facendo troppa cortisolo e che i ritmi circadiani del corpo sono stati interrotti. In un test dell'ormone della saliva, un campione di saliva viene prelevato con una sonda o un tampone. Il campione di saliva può essere testato per i livelli di ormoni comuni. È importante essere consapevoli che tutti i test ormonali forniscono un'istantanea, non informazioni definitive sui livelli ormonali, perché gli ormoni fluttuano nel corso della giornata e nel tempo. Potrebbero essere necessari più test per raccogliere una serie di dati e poiché i risultati dei test possono variare, è importante utilizzare un metodo di test coerente in modo che i risultati possano essere confrontati. Se si consiglia un test dell'ormone della saliva, ci sono alcuni vantaggi per il paziente. Tali test sono meno costosi degli esami del sangue e sono anche meno invasivi. I risultati possono essere ottenuti rapidamente e in alcune impostazioni una lettura rapida con un test dell'ormone della saliva può essere appropriata per il trattamento e la cura del paziente. I pazienti devono essere consapevoli che i kit venduti al banco sono di qualità variabile e potrebbero non fornire risultati coerenti e affidabili, anche se usati come indicato.